50.000 utenti, 6 milioni di introiti mensili per l'organizzazione criminale composta al momento da 21 indagati sottoposti a perquisizione domiciliare, 13 pannelli di controllo sequestrati dalla Polizia di Stato su disposizione del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Francesco Camerano della Procura della Repubblica di Catania, direzione distrettuale antimafia. La vasta operazione contro la pirateria audiovisiva ha impegnato il personale di diversi centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale per neutralizzare i componenti di un'associazione a delinquere transnazionale. Le indagini avviate a Catania con il diretto coordinamento del servizio Polizia Postale di Roma hanno permesso di individuare un'associazione criminale organizzata in modo gerarchico secondo ruoli distinti e ben precisi e con promotori distribuiti sul territorio nazionale e dall'estero, finalizzata la costante distribuzione di palinsesti live contenuti on demand protetti da diritti televisivi, di proprietà delle più note piattaforme televisive come Sky, Dazon, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, attraverso il sistema delle IPTV illegali. Un'attività di indagine prolungata e complessa che alla fine ha consentito di infliggere un duro colpo all'organizzazione criminale, ha sottolineato Marcello Labella, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, che nell'area Etnea ha avviato le indagini e ha individuato una base organizzativa. Sono 8 su 21 i siciliani indagati fra Catania, Messina e Siracusa, gli altri nelle province di Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari. Nel tentativo di eludere l'attività investigativa, i componenti dell'organizzazione hanno fatto uso di applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizi e documenti falsi. Questi ultimi sono stati utilizzati anche per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, di abbonamenti televisivi e noleggio di server. Su piattaforme social, di canali, gruppi, account, forum, blog e profili, si pubblicizzava la vendita di flussi, pannelli ed abbonamenti mensili per la visione illegale dei contenuti audiovisivi fruibili anche attraverso numerosi siti illegali di live streaming. La procura Etnea ha contestato i rialti di associazione a delinquere a carattere transnazionale, finalizzata la diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica.